Vogliono vedersi chiaro e per questo hanno presentato una denuncia affidandosi ad un legale Michele Sodrio. Sono i familiari di Carol Cordisco, il 18enne morto in un incidente a bordo della sua moto, la sera del 26 novembre scorso in zona Salice Nuovo alle porte di Foggia. Chiedono chiarezza e si appellano ad eventuali testimoni per quello che dicono sarebbe stato un misterioso inseguimento che avrebbe preceduto l'impatto fatale che è costato la vita al giovane centauro Foggiano. Circostanze a parere del papà Antonio Cordisco e degli stretti familiari della vittima che meriterebbero approfondimenti ed è quello richiesto nella denuncia presentata alla questura di Foggia in cui viene riferito di un possibile inseguimento da parte di un'auto peraltro presente sul posto subito dopo l'incidente stradale. Nella stessa denuncia si fa riferimento inoltre a persone che a loro volta avrebbero riferito di aver visto questo misterioso inseguimento che sempre a dire degli stretti familiari tingerebbe a quel punto di giallo l'incidente. Sempre per i denuncianti ci sarebbe anche un'altra circostanza sempre segnalata nella denuncia di una richiesta di intervento al 118 fatta da uno sconosciuto alla postazione di via Parini non lontano dal luogo del tragico sinistro. L'avvocato Sodrio ha intanto inviato a procura della Repubblica e squadra mobile una specifica richiesta di indagini chiedendo l'acquisizione dei video di una serie di telecamere di sorveglianza presenti in zona e l'ascolto di alcuni testimoni appellandosi anche a chi ha eventualmente visto transitare la moto lungo il percorso cittadino con l'invito di presentarsi in questura.